amici in tre minuti mi trovo in compagnia di mario passarello reiki master e presidente del centro shiatsu e discipline olistiche vento di primavera parliamo appunto di reiki che cos'è il reiki è una disciplina che viene dall'oriente e ce l'ha trasmesso il maestro usui mikau usui è una disciplina che utilizza l'energia che c'è nell'universo e attraverso questa energia si va ad armonizzare il nostro corpo però per fare questo chiaramente dobbiamo vedere il nostro corpo non come come lo abbiamo visto fino adesso lo dobbiamo vedere come un corpo energetico il corpo energetico praticamente subisce molti eventi e quindi perde la sua armonia un evento potrebbe essere anche un'emozione forte un colpo di freddo caldo non lo so uno shock tutti questi eventi portano a disarmonizzare il nostro corpo attraverso il reiki si può riarmonizzare il corpo senza utilizzare diciamo altri mezzi se non solo ed esclusivamente le mani e come viene la pratica la pratica avviene poggiando le mani su determinate parti del corpo che hanno la necessità di essere trattati ti faccio un esempio non lo so ho battuto il ginocchio sul tavolo su una su una sedia e allora istintivamente porto le mani questo è l'istintivo che viene codificato attraverso questo maestro usui e che praticamente va attraverso l'appoggio delle mani e va a riarmonizzare quella parte non parliamo di chakra prima di chakra che cosa sono in chakra i chakra sono i centri energetici che sono distribuiti in quasi tutto il nostro corpo di questi chakra ce ne sono sette che sono molto più importanti e sono situati lungo la colonna vertebrale ogni chakra è legato a una parte del nostro corpo per esempio il primo chakra è legato ai genitali è legato anche alla sopravvivenza ai nostri bisogni materiali quindi per non disarmonizzare questo questo chakra praticamente è necessario come dire soddisfare i bisogni che ha una persona poi c'è secondo che è legato alle emozioni alle forte emozioni e il terzo anche anche questo è legato a determinate emozioni il quarto che legato agli affetti all'amore all'amore incondizionato il quinto per quando riguarda la comunicazione della gola quindi è l'affermazione di se stessi attraverso anche la parola il sesto che è legato alla nostra intuizione è il settimo alla nostra parte più nobile quella spirituale dove si studia il reiki il reiki si studia attraverso un maestro che ti passa delle tecniche che ti aiuta a ricordare questa tua parte nobile e che quindi attraverso un corso si può diciamo diventare canali e questo canale praticamente convoglia questa energia universale attraverso le mani può trattare una parte del corpo sia questi chakra che anche altre parti dove sono volenti inscriviti al nostro canale Grazie a tutti.